Abbiamo detto che il decreto ministeriale presentato ieri al Senato prolungherà le misure anti-Covid per altri 15 giorni, fino a fine luglio, misure che naturalmente stanno avendo anche delle conseguenze sul nostro modo di fare delle vacanze e di viaggiare. Dopo il Tg delle 8 parleremo di traghetti, ma intanto andiamo a Capri dove c'è Claudia Antinoro che si trova appunto stamattina lì per raccontarci com'è la situazione al momento. Claudia, buongiorno. Buongiorno Barbara, buongiorno Alessandro, alle nostre spalle la piazzetta, il cuore di Capri, un'isola che negli ultimi giorni ha visto un aumento del numero dei turisti, naturalmente un numero ben lontano da quello degli anni passati, ma un aumento delle presenze che se da un lato è importante per la ripartenza economica dell'isola, dall'altro però preoccupa il rispetto delle regole. Come è accaduto lo scorso weekend, si sono verificati degli assembramenti agli imbarchi dei traghetti. Noi più tardi vi mostreremo un servizio che abbiamo realizzato, ci siamo imbarcati sul traghetto e vi faremo vedere quali sono le misure di sicurezza che bisogna rispettare, chi controlla che vengano rispettate. Poi ancora parleremo con il sindaco di Capri che ci racconterà quali sono i provvedimenti che hanno preso qui nell'isola per mantenere le misure di sicurezza. In un'isola è fatta di vicoli stretti, piazzette, dove appunto il distanziamento è difficile da mantenere. Bene, grazie, grazie Claudia, allora con te ci ritroveremo a più tardi.